Pochi pelli che vi le impreviste perché non avevi per esempio da una banda che stavamo facciando il remorso. E ora è in tribunale che ci avrà raccettato, raccetti. A proposito, se sono un po' comune di signore c***o, che vuole conto dalle armi che portavamo, vorremmo che un posto là di cacciamo a... ...vonde cacciamo il c***o? No, no, no. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.